Buongiorno siamo venuti qui all'evento di The Procurement oggi perché vogliamo raccontare come Oracle qual è il nostro apporto a questo momento in cui la trasformazione digitale sta diventando un must per tutte le aziende che vogliono innovare e incontrare le esigenze dei loro consumatori. Oggi viviamo un momento di grande cambiamento siamo diventati tutti consumatori digitali e le aziende soprattutto quelle che devono rivedere la loro logistica devono assolutamente tenere in considerazione questi cambiamenti. Noi dal nostro punto di vista cerchiamo di accompagnare questo percorso attraverso la disponibilità di applicazioni che fanno uso delle tecnologie emergenti quali la blockchain, la IoT e l'intelligenza artificiale proprio perché vogliamo assicurare che questo percorso sia condotto in sicurezza e con i migliori risultati.